Dal Vangelo secondo San Giovanni, gloria a te o Signore. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro In verità, in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno ve lo dico fin d'ora, prima caccala, perché quando sarà venuto crediate che io sono. In verità, in verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore, loda a te o Cristo. Dall'acclamazione al Vangelo, Signore, Gesù, testimone di fede, primogenito dei morti, tu ci hai amato e lavato, i nostri peccati nel tuo sangue. Salmo 68 Canterò in eterno l'amore del Signore. Dalla prima lettura, quindi dagli atti degli apostoli, dalla discendenza di Davide, Dio inviò come Salvatore nostro Signore Gesù Cristo. Cari fratelli e cari sorelle, è proprio così. Un servo non è più grande del suo padrone e né un inviato è più grande di chi lo ha mandato, ma se sapete bene queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Sia lotato Gesù Cristo e Ave Maria